Allora come cittadini 5 Stelle del Cilento siamo soddisfatti che dopo l'esposto che abbiamo presentato la Procura di Vallo ha aperto un procedimento sulla strada cilentana. Questo è il primo passo chiaramente, nei prossimi giorni integreremo, ora abbiamo un magistrato con cui poterci confrontare e quindi integreremo con nuovi documenti. Ora è il territorio che deve intervenire, se si sente parte l'ESA deve intervenire subito. Il Movimento 5 Stelle del Cilento ha presentato l'esposto, abbiamo avuto dei buoni riscontri dopo varie interviste sul territorio. In quello che come primo passo già ci possiamo ritenere soddisfatti, però la nostra speranza è quella che la strada, almeno prima dell'estate, possa essere già percorribile. Noi nel frattempo faremo i banchetti in tutti i comuni del Cilento per organizzare una grande manifestazione che si terrà sulla superstrada nel mese di aprile. Speriamo che l'adesione sia alta da parte di tutti, specialmente dal settore turistico, che in questo momento è penalizzato più di tutti perché con la chiusura della superstrada abbiamo grosse difficoltà e ci sono grosse difficoltà per i turisti di venire nel Cilento.